Ben ritrovati, siamo alle porte di un weekend di caldo e bel tempo. Guardate questa mappa delle anomalie termiche a 1500 metri proprio per le giornate di questo fine settimana. Osservate la cupola di valori oltre le medie del periodo nella quale si trova anche la nostra Italia. Le previsioni iniziamo da sabato 22 agosto, giornata rovente, avremo sole in contrastato in tutto l'Abruzzo, ventilazione al più moderata da est sulle zone orientali, da ovest su quelle occidentali, mare calmo e temperature massime con picchi locali di 37-38 gradi. Ed ecco la domenica 23 agosto, sole in tutto l'Abruzzo al mattino, qualche nuvola da calore si formerà nelle ore pomeridiane sulle zone montuose e non si esclude sempre in queste zone qualche locale e veloce episodio temporalesco. Ventilazione in rotazione da nord al più moderata, mare poco mosso e temperature sempre oltre le medie del periodo ma in leggerissima flessione. Lunedì poi diminuiranno in maniera cospicua. È tutto, mi fermo qui, passate un buon weekend, a presto!